Siamo di una novità, di un'eccellenza della nostra medicina, un intervento davvero che è stato fatto poco tempo fa al Polichinio Gemelli di Roma. Vi do subito il benvenuto al professor Marco Raffaelli, il direttore della chirurgia endocrina e metabolica, Polichinico Agostino Gemelli di Roma e professore di chirurgia generale all'Università sempre Cattolica di Roma. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, noi faremo un po' il punto e ci illustrerà questa nuovissima tecnica, come è nata anche l'idea. So che in realtà è un'esperienza anche che viene da paesi orientali, ma iniziamo subito a capire un po' l'anatomia, le funzioni della nostra tiroide. Che cosa fa? Perché è così importante? La tiroide è una piccola ghiandola situata nel collo, questo lo sappiamo tutti, ma piccola ma estremamente importante, perché produce degli ormoni, che sono gli ormoni tiroidei, che controllano tutte le funzioni dell'organismo, costruiscono in qualche maniera l'acceleratore e quindi poi subentrano i sintomi quando o sono troppi abbiamo gli ipertiroidismi o sono troppo pochi e quindi abbiamo gli ipotiroidismi, cioè la funzione della tiroide regola tutte le nostre funzioni. Oggi appunto lei ci illustrerà nel dettaglio questo nuovissimo intervento di esportazione della tiroide senza lasciare cicatrici, ma quando è necessario togliere la tiroide, professore? È una domanda da un giorno intero. Assolutamente, però classicamente possiamo individuare tre condizioni fondamentali. Anzitutto alcuni degli ipertiroidismi, cioè le iperfunzioni di cui parlavamo prima, che non sono controllabili con la terapia farmacologica. La patologia nodulare alla tiroide, soprattutto quando è di grosse dimensioni, il famoso gozzo che ci dà fenomeni compressivi o importanti inestetismi. E la terza condizione ovviamente sono i noduli tiroidei sospetti o maligni che necessitano l'intervento chirurgico perché si tratta di una patologia neoplastica. che è completamente al 100% risolutiva, così tranquillizziamo, no? Tranquillizziamo. Perché magari quando si parla di tumore di neoplasie, ovviamente le persone che sono a casa si possono anche spaventare, no? Da questo punto di vista. Fortunatamente il tumore della tiroide nella stragrande maggioranza dei casi è un tumore nei quali la terapia, anzitutto chirurgica, ma non solo, raggiunge dei risultati molto importanti, risolutivi. Si raggiunge una cura definitiva nella stragrande maggioranza dei casi proprio perché si tratta di tumori che hanno solitamente una bassa aggressività biologica. Adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma poi torniamo. Torniamo a parlare di questo nuovissimo intervento di asportazione alla tiroide senza lasciare cicatrici fatto poco tempo fa a Poligno e Gemelli di Roma. Restate lì, non vi muovete. Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Marco Raffaelli. Stiamo parlando di intervento di asportazione della tiroide. Abbiamo visto poco fa quali sono le condizioni per cui si rende necessario poi togliere la tiroide. Prima di parlare di questo nuovissimo intervento, parliamo degli interventi anche tradizionali. Voi di Roma, Poligno e Gemelli, effettuate 1.500 interventi l'anno di asportazione alla tiroide. Quali sono gli interventi tradizionali che utilizzate? Ma veda, consideri questo, che l'unico chirurgo che ha vinto un premio Nobel per un intervento chirurgico è stato il professor Coker. Il 1909. Esattamente. Perché ha standardizzato questo intervento, che oggi sembra così facile, rutinare. Tutti quanti ho fatto la tiroide, si dice. In realtà, fino all'epoca era un intervento considerato ad alto rischio. La mortalità era superiore al 50%. Lui è riuscito a standardizzarlo e questo gli è stato riconosciuto per circa un secolo. È rimasto immodificato rispetto a quando avesse fatto lui. Poi però, progressivamente, alla fine degli anni 90, sono venute fuori nuove tecniche al fine di ridurre l'impatto estetico di questo intervento che veniva fatto con le grosse incisioni. E varie sono state tecniche, tra cui la videoassistita che ha avuto la sua nascita al gemellico attraverso una piccola incisione attraverso la quale si introduce l'endoscopio che, devo dire, è tra le tecniche mini-invasive quella più diffusa nel mondo. Poi ci sono nate altre atte tecniche con accesso cosiddetto remoto, cioè l'accesso non è situato nel collo ma in distretti distanti, in modo da ridurre l'impatto estetico della cicatrice. Tra queste, la più diffusa è la tirettomia robotica transascellare. Per cui dalla scella si fa una piccola incisione. Lei è stata proposta anch'essa all'inizio di questo secolo, però ha avuto uno sviluppo importante con l'utilizzo della piattaforma robotica. Perché? Perché la piattaforma robotica facilita il gesto del chirurgo. Ovviamente la piattaforma robotica è guidata dal chirurgo, che è seduto comodamente alla console, ma si riescono a muovere gli strumenti come se si fosse immersi nel collo del paziente. E su che base voi decidete un intervento rispetto ad un altro? È evidente, sulla base della patologia e sulla base della conformazione e della morfologia del paziente, oltre che delle sue esigenze. Ci sono delle condizioni in cui il paziente tende a fare delle cicatrici pertrofiche, dei chiloidi, per cui queste tecniche che possono avere un accesso distante o comunque nascosto sono sicuramente preferibili. Ma è anche il tipo di patologia e la morfologia del paziente a guidare la scelta della tecnica chirurgica. Allora, parliamo di questa nuovissima tecnica. Voi siete stati i primi al gemelli a utilizzarla. Com'è nata questa idea senza cicatrice? Cosa succede? Allora, nei paesi orientali, non l'ho detto prima, una cicatrice sul collo rappresenta quasi uno stigma sociale, per cui donne di sesso femminile che hanno una cicatrice sul collo, pazienti di sesso femminile che hanno una cicatrice sul collo, sono in qualche maniera limitate nella loro vita sociale, e per cui si è andato incontro ad avere questi accessi remoti. L'ultima nata è appunto questa dalla bocca, nata in Thailandia, un chirurgo talandese l'ha messa a punto. Si fanno delle piccole incisioni all'interno della bocca, sotto il labbro inferiore, nel cosiddetto vestibolo, attraverso queste incisioni si introducono gli strumenti endoscopici e si porta a termine l'intervento chirurgico. E quanti pazienti avete trattato in questo modo al momento? Ma i pazienti sono pochi, nella misura nella quale la selezione è limitata, cioè non è una tecnica proponibile in tutti quanti i casi. Le indicazioni sono limitate dalla conformazione del mento, del collo del paziente, e anche dalle dimensioni della tiroide e del nodulo che ci troviamo a dover trattare. Per cui noduli di grosse dimensioni, che rappresentano la stragrande maggioranza dei pazienti, che giungono all'intervento chirurgico, non sono ovviamente candidabili a questo tipo di testo. Immagino anche i pazienti giovani, probabilmente. Assolutamente sì. Quello è questo. Parliamo anche del postoperatorio, perché magari molte persone hanno paura di cosa possa succedere nel postoperatorio. È uguale all'intervento tradizionale? Che cosa succede anche dopo un'asportazione della tiroide? Tendenzialmente sì. Il decorso postoperatorio, per quanto riguarda il gesto chirurgico, è sostanzialmente sovrapponibile. Ovviamente ogni tecnica ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. La transorale ha quello di mettere un pochino a rischio un piccolo nervo che dà la sensibilità in questa zona, che può essere poco funzionante per qualche tempo e quindi ci può essere un po' di alterazione della sensibilità nella zona mentoniera. Al di fuori di questo, ovviamente, è come se si facesse un intervento nel cavorale, quindi ci può essere un po' di edema postoperatorio. Però ci sono degli esercizi che noi consigliamo che servono a ridurre l'impatto di questo... Allora, questo per quanto riguarda questo nuovissimo intervento. Invece il postoperatorio nei pazienti che hanno asportato la tiroide nelle altre tecniche, è uguale nel postoperatorio? C'è sempre l'edema che rimane? Varie a secondo del sito attraverso il quale noi entriamo. È chiaro che c'è sempre un pochino di edema che può alterare, che progressivamente tende a migliorare man mano che il processo di cicatrizzazione va avanti. Ci sono altre cose che vanno controllate nel paziente operato alla tiroide che sono in modo particolare la funzionalità dei nervi ricorrenti e la funzionalità delle ghiandole paratiroide che sono delle piccole strutture che in realtà costituiscono il core del nostro intervento chirurgico. È preservare integre queste strutture che è il target dell'intervento chirurgico. Come si vive senza tiroide? Nel senso, ci sono poi, immagino, una terapia farmacologica da dover seguire una terapia che deve essere eseguita per tutta la vita, professore. Anche qui dipende dall'estensione dell'intervento chirurgico. È chiaro che se si toglie tutta quella tiroide si diventa dipendente dal farmaco. È un farmaco di sintesi che del tutto è sovrapponibile a quello prodotto dal nostro organismo. In passato ci potevano essere dei problemi di assorbimento, di tolleranza legata alla tipologia ma oggi esistono sul mercato varie possibilità per venire incontro anche alle esigenze dei vari pazienti. Ma è lo stesso farmaco, è lo stesso ormone che la tiroide produce. Allora, c'è una novità perché fra pochissimi giorni ci sarà il congresso europeo di chirurgia endocrina dove ovviamente verranno presentate anche delle novità. Allora, qual è il futuro che ci aspetta, cioè come pazienti, diciamo? Sì, effettivamente la prossima settimana all'Università Cattolica vedremo riuniti tutti i chirurghi provenienti da tutta Europa e non solo che sono aspettati dagli Stati Uniti, dall'Estremo Oriente proprio per discutere questi aspetti. Quella che io vedo come novità maggiore in questo momento sono ovviamente l'utilizzo delle piattaforme robotiche e degli approcci mininvasivi e oggi ci sono delle novità anche per le strumentazioni che servono a preservare quelle ghiandoline, le paratiroidi di cui parlavamo prima che molto spesso possono determinare dei problemi nei pazienti nel postoperatorio perché il loro non funzionamento comporta un abbassamento del calcio con dei sintomi importanti. Oggi sono stati messi a punto degli strumenti che sono appena entrati sul mercato. Devo dire, noi al Gemelli siamo stati i primi a provarlo in Europa che consentono di preservare con maggiore accuratezza e sicurezza le ghiandole paratiroide. Quando deve essere controllata la tiroide? Perché è una ghiandola di cui noi ci dimentichiamo e quali sono? Oltre agli esami del sangue dovremmo fare anche una ecografia alla nostra tiroide. Professore, quando? Questo è... Ci sono dei fattori di rischio la familiarità l'esposizione ambientale e così via. è evidente che sono state fatte anche delle campagne di screening. Io sono un pochino scettico sulle campagne di screening perché alcune volte creano la patologia dove la patologia non c'è. È chiaro che confrontarsi con il proprio medico curante su alcuni... Che conosce la storia. Che conosce la storia. e una palpazione del collo sono nella stragrande maggioranza dei casi assolutamente sufficienti. È chiaro, se ci sono dei fattori di rischio o una storia familiare è bene farsi seguire un pochino più accuratamente. Grazie. Grazie di cuore professor Marco Raffaelli. Grazie a voi. Grazie per averci raccontato e illustrato questa nuovissima... davvero questa novità. Grazie di cuore. Grazie a voi.